e bellissimi ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video io sono XSWiden e vi do il benvenuto su un nuovo video regà vedete anche voi questo sarà un boss di sicuro per quindi stiamo attenti andiamo giù ma perché proprio giù regà la spada è una bucca sono io aurora la tolgo? ehm se mi fai un po' inquietante come ti fa a togliere? eh si va dove sei andata si va così ciao ciao che vuoi? andiamo su dai ma perché sei entrato nel mio server? come hai fatto? mica era privato? sono entrata ok no ma allora io voglio uscire ciao e io sono fuori ciao e cosa vuoi fare? voglio ammazzare tutti non le pecore non gli animali per fuori ok io scavo una buca proprio qua va bene infatti materiale non ci riesco devi fare devi fare la pedala su me allora sì quando faccio così? eh magicamente va adesso ma giusto per sapere non farla qui avro per favore dov'è? non farla qui la buca ma mi hai preso quello lo so va lontano avro per favore perché questa è la mia casa allora vieni con me a scavare eh sì tra poco ha preso le trappole sta prendendo le trappole allora 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 prendiamoci tutto dopo vi faccio vedere ci abbiamo davvero tanta tanta la ehm come cavolo si chiama? non mi ricordo più il nome non ci credo mai lana ecco non mi veniva più il nome abbiamo tantissime e ve la faccio vedere ah ma ora stavo dicendo uno quando hai buccato la la quando hai fatto la tua buca e qua e perché io non lo sapevo ho preso i mattoni 12 bravo e si stavano andando per pelle ecco perché sto facendo la buca oddio ragazzi voglio voglio trovare diamanti ecco ragazzi abbiamo davvero 60 tantissimi io voglio trovare diamanti di lana eh sì vuole trovare diamanti quadrigio sembrano tipo delle scale togliamo tutte le trappole allora cosa vorrebbe fare vediamo come costruito cioè come cosa fa no no non serve niente perché se no la sprechi vabbè data aiuto la terra no faccio da sola vattene via voglio io diamanti ma qui non la troverai mai vabbè allora anche io vado a scavare va bene eh euro va bene così trovi diamanti anche te anche se l'ho già trovati ma non sono facile da trovare però per te sì ok vado ragazzi tra l'altro c'è pochissimo d'armatura ma io non c'ho la candelina sì poi buio andiamo te lo dovrò prendilo dov'è dov'è è lì dov'è girati là vai avanti ecco c'è l'hai devi cliccarlo su di noi quanto c'è le ho? 11 ok grazie ciao prego guardate adesso io devo ah ce l'ho già alcuna va bene va bene ce l'ho già anche io 11 allora mettiamole qua dopo dobbiamo vedere le nostre buche eh vuoi vedere la mia? io l'ho già fatta dopo io faccio quali dei video non so se mi riguardi però 64 ok va bene così rega così ci apriamo tante torci noi ma alla fine non servono perchè è buco sta diventando buio quindi mettiamo una candelina sta diventando solamente buio? no intendo giù ah non avevo capito eh vabbè io guardo guarda quanto ho fatto io dentro andò sei a casa? si eh vado e però io non troverò mai diamanti proprio andiamo verso qui che non siamo andati ah ma quindi l'ero andando anche io no puoi no cioè bu ma sotto te si trova i diamanti? no in aria si trova i diamanti guarda eh? se trovi in aria trovi i diamanti prima me lo dici certo li trovano in basso ma non troppo in basso oddio legatemi nei commenti se porterò mia sorella nel non nel canale nei video di minecraft la porterò cioè io lo so già che la porterò però ditemi nei commenti che mi fa sempre piacere leggeri fastidio commentozzi allora intanto andiamo in basso però non troviamo niente posizione siamo ancora io voglio andare dove sei e te ok devo andare dentro perché così trovo i diamanti? eh ma quanto ho scavato? non lo so guarda tanto eh eh non c'è più il piccolo allora raga aspettate ehm come non ce l'ho più? l'ho usato troppo eh sì l'ho usato a Iono facciamo che tanti no uno ora facciamo che stiamo su e non andiamo in miniera cosa vuol dire? è che non facciamo non cerchiamo i diamanti perché tanto non li troviamo vabbè io voglio cercarli ma no a me se andiamo solo sotto terra a cercare le altre cose cerchiamo tutte le cose che sono sotto terra raga scusate ma sto facendo una cosa mia sorella vai dove vai allora ok ho fatto questo mia sorella mi ha messo in pausa perché ci voleva un po' sta laggando come mai come mai le gazzuoli ok intanto mia sorella sta sta scavando stavo un po' più giù sei giù ovviamente raga se trovo qualcosa tipo lapisrazzoli ora se trovi qualcosa di azzurro me lo dai perché perché mi serve tanto ma i diamanti no puoi tenerli perché se li hai trovati te sono giusti che sono tuoi però dico lapisrazzoli che sarebbe per fare gli incontriusimi ma anche allora li voglio ti posso dare qualcosa in cambio per quelli così tipo il ferro cosa serve il ferro per fare le cose più forti metto un'altra candelina così qua allora scaviamo 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 scavo 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 lo andiamo qui raga che è un posto bellissimo ecco qui 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 che è un posto bellissimo non guardarmi oh dai non guardarmi se no mi coppi no non ti coppio ok va bene no guardarmi qua no io ti voglio dire però ok guarda che non coppio ma dai vai via mi pare che non si è accorta allora allora tu scavi lì io scavo qui io vado un po' più veloce eh perché è un piccone in ferro e lei è in pietra non se ne aspettava ma perché ok ah si siamo qui allora andiamo 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 ti stai divertendo avro? si tu bah non trovo niente per questo anch'io eh immaginavo guarda no scherzo allora andiamo 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 mi sta finendo il piccone all'aura ok ho ancora metà siamo tutte e due da mobile tra l'altro perché non so sapere è tipo una sfida che credo che nessuno vencerà perché nessuno trova qualcosa perché sono tutte fortunati vabbè io scavo giù va bene eh ragazzi troviamo il ferro bene così no 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 non ho una sfida perché già ok va bene va bene no perché io sono più bravo no ok giusto allora prendiamo il ferro ci sta dai 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 alla fine dopo vieni il video che faccio faccio sempre dopo vieni la mia buca va bene si ragazzi non mi raccommenti nei prossimi video se tipo faccio le avventure di sto mondo qualcosa del cenere ecco e non siamo sempre in miniera tra l'altro io non l'ho deciso eh di andare in miniera perché io non c'avevo assolutamente voglia di andare in miniera però l'ha deciso mia sorella perché voleva assolutamente diamanti anche se lei non ce l'ha però io ce l'ho ben quattro allora sta finendo il picco nozzo per quindi tra poco non mi io vado su e faccio vedere un po' le cose che sto facendo allora lucina problema ecco è finito il problema raga che sono praticamente senza niente c'è guarda ci manca pochissima l'armatura vabbè ce la facciamo un'altra di armatura raga non lo so non ho più pari di idea dove devo andare ok qui allora andiamo su raga prendiamo il ferro e mettiamo a cuocere il ferro perché si dai facciamo l'armatura intanto mia sorella la lasciata aperta quanto cavolo quando mi lasciano aperto vabbè andiamo a prendere l'armatura intanto ora è sera te lo dico ma tanto se stai a scavare non serve cioè vabbè chi se ne frega se è sera allora andiamo su raga abbiamo fatto un altro piano tra l'altro e il piano di mia sorella allora abbiamo 5 ci prendiamo ah mi è finito eh lo vieni su adesso ti prendo io aspetta lo faccio io se vuoi sto facendo quella spada no 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 lo spacchi e poi se lo spacchi con cavoli se trovi uso il martello allora martello non è un martello uno fa niente allora io raga oh cavolo ok no no l'ho fatto allora allora ci facciamo così mi dai quello cosa quello per scavare e la devi arrivare tu no adesso forse mi aspetta vieni te mi aspetta allora mettiamoci l'armatura però purtroppo non è più incantata cosa mi dispiace assai tanto ma fa niente allora mettiamoci anche questo ok intanto andiamo su poi mi serve anche a me il piccone tra l'altro facciamo il piccone in ferro ora subito non usiamo ancora i piccoli in ferro devi trovare il ferro prima facciamo perché non voglio utilizzare quello in diamante guarda i diamanti avrà i piccoli i piccoli i piccoli e vabbè i piccoli ti posso tranquillamente dare tra poco avrò appena finisco appena prendo tutti i diamanti basta va bene perché sta adorando tanto nel mio posto si per raga vedi quanta quanta scavi piano nel prossimo video andremo nel posto di mia sorella per quindi gg sì 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 adesso tanto me la dice nell'orecchio allora ma io voglio farlo adesso tanta roba allora ottino ok ok io vengo su basta speriamo che mi dico l'altro sono nato così allora quanto ci abbiamo è vero che ho scavato 63 per quindi tra poco tra pochissimo abbiamo ancora una staccona raga scrivi per chi vuole giocare con me scrive nei commenti il suo nickname e e poi si deve accedere sempre per amici adesso lo faccio io perchè ha scavato in profondità per quindi ho capito com'è adesso lo faccio io se l'ha fatto me lo scrive nei commenti il suo nome e così gli chiedo la richiesta e così possiamo giocare insieme in un eventuale video tipo qualcosa del genere adesso raga portiamo mia sorella su metto in pausa e dopo facciamo ci salutiamo ok raga per questo video è tutto spazzate i commenti iscrivetevi iscrivetevi perché ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao